Bella raga, questa season è una season veramente veramente complessa Perché? Perché ragazzi avete visto hanno stravolto il loadout delle armi Quindi sono cambiate praticamente quasi tutte le armi del gioco Hanno tolto il pompa del nonno, hanno rimesso il tattico, hanno rimesso il charge Sta succedendo veramente un casotto In questo video ragazzi vi dirò i setting perfetti per utilizzare al meglio tutte queste armi Mi raccomando ragazzi prima di iniziare vi chiedo di lasciare un bel mi piace a questo video E di iscrivervi al canale del rampagione e di condividere questo video con tutti i vostri amici Se anche loro si lamentano che mi stanno tanti colpi, che i danni non sono consistenti eccetera Altra cosa ragazzi ricordo a tutti quanti che l'unico e vero profilo ufficiale di Instagram del rampagione È quello che ho in comune con Sabrix Trovate il link qua sotto in descrizione del mio profilo Instagram per qualsiasi cosa scrivetemi ragazzi Inoltre ragazzi vi ricordo di utilizzare il codice supporto a un creatore rampagione 97 nel negozio di Fortnite E detto ciò ragazzi possiamo iniziare con il video di oggi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui da Rampagione TV E oggi ragazzi siamo tornati qua con un nuovo fantastico video Nel video di oggi ragazzi finalmente il primo video da quando è uscita questa nuova season 5 di Fortnite Vi dirò un po' questo l'ho già scritto nel titolo del video Vi dirò anche cosa dovete fare per giocarvi un po' meglio questa season Vi do un mio parere riguardo questa season E vi dirò le impostazioni che io sto utilizzando attualmente Che ragazzi è un bijou Vi dico solo che sono veramente veramente fortissime Mi raccomando guardate tutto il video e provatele Fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate E mi raccomando ragazzi supportatemi con tanti big mi piace Per aiutarmi a far girare il video Altra cosa ragazzi gioco con voi sulla piattaforma Viola in live Quindi se siete disposti e se avete Amazon Prime potete collegarlo all'account della piattaforma Viola E potrete abbonarvi gratuitamente al costo zero E potrete giocare insieme a me praticamente quando volete Quindi niente ragazzi detto ciò possiamo iniziare ad esporvi la mia super sensibilità segreta Dico segreta perché ragazzi l'ho fatta ieri E diciamo che molti me la stanno chiedendo perché vedono che comunque la mira è veramente veramente buona Innanzitutto ragazzi adesso vi faccio uscire delle mie clip che ho realizzato in questi giorni Devo dire una cosa allora ragazzi ce l'ha da fare delle precisazioni Questa season è una season che non si basa più che altro sulle skills Non serve essere super skillati non serve giocare da mouse e tastiera per avere Quella spanna in avanti rispetto ai player da pad L'unica cosa che vi serve in questa nuova stagione è avere una bella bella mira Perché? Perché ragazzi ci troviamo davanti a un meta di pompa tattici Di charge che comunque sono pompa ragazzi che richiedono tanti colpi Non si basa su un colpo singolo a meno che non prendete l'headshot Però comunque in qualsiasi caso servono sempre due barra tre colpi Bendati sono anche quattro Quindi ragazzi come potete capire da questo serve una sense che ritenga Cioè che tenga contenuta la precisione che avete voi utilizzando il pump eccetera Altra cosa ragazzi se giocate da pad usate tantissimo la nuova vecchia mitraglietta Non quella silenziata all'altro modello quella mitraglietta ragazzi è veramente devastante Perché gioca da pad Quindi niente ragazzi questo era quello che volevo un po' precisarvi Parere personale la season spacca La mappa è molto ma molto bella Meno il loadout Il loadout ragazzi purtroppo è l'opposto di quello che abbiamo visto nella stagione precedente Quindi diciamo ci eravamo un po' abituati allo spas Al pompa del non eccetera Purtroppo ce li hanno levati ragazzi Quindi ci dobbiamo adattare con il tattico con il charge Che sono pompa abbastanza Lasciamo perdere Detto ciò ragazzi vi voglio iniziare ad esporre questa mia sensibilità Come ho già detto ragazzi è una sensibilità che vi darà l'opportunità di fare danni consistenti Quindi danni elevati Pochi 20, 22, 30 Può capitare però ne farete molto ma molti di meno rispetto alla sensibilità che state utilizzando Vi chiedo semplicemente ragazzi di provare questa sensibilità E mi fate sapere nei commenti voi come vi siete trovati Ricordo che la sensibilità è soggettiva Allora ragazzi abilità pedale ho tenuto sì Come sempre ragazzi non so dare una spiegazione logica Però quando abiliti il pedale Sembra tutto un po' più rapido Un po' più veloce Ecco avete tipo un millesimo di accelerazione in più Zona morta tengo 20 e 8 La zona morta ragazzi è una cosa che serve pochissimo Cioè nel senso l'analogico sinistro la potete tenere pure 30 Perché io la tengo a 20 perché c'ho l'analogico che fa un po' i capricci Si cammina da solo ecco Quindi cosa faccio la tengo a 20 Nell'analogico destro va bene 8 Perché 8? Perché così poco ma neanche troppo? Perché ragazzi la sensibilità che sto utilizzando E adesso qua ci rimarrete male in tantissimi È esponenziale Avete capito bene ragazzi la sensibilità Che andremo a vedere oggi è in esponenziale Però trucchettino Tempo di smorzamento 0 ragazzi Quindi molto diversa da una sensibilità esponenziale normale Prendiamo ad esempio la sensibilità di RIT RIT usa lo 0,20 di tempo di smorzamento Si sente l'ho provata è un po' fastidioso Mi serviva una sensibilità che si avvicinasse al lineare Però che la mira fosse più contenuta Un po' stile esponenziale Ragazzi togliendo il tempo di smorzamento Questa sensibilità sarà un bijou Perché quando builderete, quando editerete Vi sembrerà di essere effettivamente al lineare Invece sarete in esponenziale Però quando muoverete la visuale Percepirete proprio il fatto di essere in esponenziale Quindi la mira sarà molto ma molto contenuta E mi serete molti meno colpi Passiamo ora alla sensibilità di mirino Sensibilità di mirino ho ottenuto 10-10 il classico Proprio per andare sul sicuro Passiamo ora a build ed edit Build ed edit ragazzi Sono, non so se notate Ma comunque nelle sensibilità esponenziali Il build ed edit cerca sempre di essere molto ridotto Rispetto al lineare Perché voi direte Dato che comunque la sensibilità è più lenta in esponenziale Perché ragazzi la sensibilità in esponenziale è molto particolare Non so se vi è capitato ad esempio di utilizzare una sensibilità di RIT RIT ragazzi utilizza 1.6 di build e 1.6 di edit Però se provate a mettere 1.7 e 1.7 Ragazzi diventa stra veloce Non si capisce il perché Molto probabilmente hanno diciamo un po' tarato male Diciamo il building e l'edit Però si sente una differenza incredibile Io tengo 2 di build e 2.1 dell'edit Ragazzi sembra di essere lineare Provateci Volevo mettere 2.2 Però ho detto vabbè facciamo 2.1 Perché è esponenziale ragazzi Come ho già detto parte lenta E poi diventa un po' più veloce Sembra quasi che abbia un'accelerazione integrata Quindi 2.1 va benissimo ragazzi Provateci Se la vedete un po' troppo lenta potete aumentarla Se la sentite un po' troppo veloce la diminuite Passiamo ora alla cosa più importante ragazzi Ovvero la visuale La visuale ragazzi vi sorprenderà Perché è in esponenziale Questi numeri sono un po' strani da vedere Ma ripeto È un esponenziale finto Perché? Perché non c'ha il tempo di smorzamento Quindi sembra lineare Infatti utilizzo 42.42 Cioè È bassissima Per essere esponenziale Sono sensibilità bassissime Esempio RIT Utilizza 50.60 Ma perché? Perché ha il tempo di smorzamento a 0.20 Qua non abbiamo tempo di smorzamento Ci va benissimo 4.2 4.2 Accelerazione immediata Ragazzi provare per credere Provate questa sensibilità E fatemi sapere nei commenti Voi come vi siete trovati E come secondo voi è questa sensibilità Io ci ho messo tantissimo Ci ho messo da quando è uscita la stagione Ho giocato tanta arena Cioè solo arena E ho provato tantissime sensibilità E ragazzi Mi sono convinto del fatto Che lineare per questa season Sia totalmente negato Ci può stare che ci sia il player Che gioca lineare Si trova benissimo Però ragazzi Se avete problemi Che da quando è uscita questa stagione Lineare I danni fanno schifo Non sono consistent Missate tantissimo Anche perché bisogna avere una precisione incredibile In questa stagione Ribadisco Non potete permettervi Di missare un colpo pompa Con il tattico Dovete Perfettamente Buttare dentro Tutti i colpi All'avversario Quindi ragazzi Questa è la sensibilità 42-42 Secondo me Spacca Potevo utilizzare anche 42-45 Ripeto Io vi do in mano Una sensibilità Voi la Elaborate a vostro piacimento Così Secondo me È perfetta Capiterà veramente Pochissimo Di sbagliare Poco niente Perché Perché è bassissima Però Mentre buildiamo Mentre editiamo Sembrerà Di essere lineare Un po' meno Le edit Però il build Ci siamo Il building mi piace Come state vedendo Delle clip di sottofondo Per lo più Questa sensibilità Non è per i creative warrior Questa sensibilità È proprio per chi vuole Giocare competitive In questa nuova stagione Serve per missare Meno colpi possibili Se con questa sensibilità Sparate con una mitraglietta Vi entrano perfettamente Tutti i colpi Perché Perché la sensibilità È contenuta Se avessi messo Lo smorzamento Entravano ancora meglio Però così ragazzi Va benissimo Cioè È una sensibilità Che si chiami Cioè Che si contrappone Tra lineare e esponenziale Capite ragazzi Perfetta Provate E fatemi sapere Nei commenti Voi che cosa ne pensate Io ragazzi Da ieri Che sono in esponenziale Avevo un'altra sensibilità Avevo quella di RIT Ho girato a questa Perché quella di RIT Non mi piaceva Al tempo di smorzamento E togliendolo Diventava troppo veloce Allora ho deciso Di crearmela Io mi sono fatto Questa sensibilità Che è veramente Molto buona ragazzi Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Detto ciò ragazzi Se vi fa A me sicuramente Fa piacere Però se vi può Far piacere Passate a farmi Un saluto Sono sempre in live Sulla piattaforma Viola Trovate il link Qua sotto In descrizione Se volete farmi Un saluto Se volete giocare Con me Quello che volete Ragazzi Passateci E niente ragazzi Detto ciò Spero che il video Di oggi Vi sia piaciuto Più che altro Vi sia stato d'aiuto Qui è tutto Dal vostro rampagione E ci si becca Con un prossimo video Bene ragazzi